ciao amici di bfb oggi vogliamo farvi vedere l'interno della nostra arnia con quattro melari la regina della piaria perché tanto per soddisfazione personale ma perché qualcuno ci ha detto che non ci crede se noi mettiamo quattro melari sono tutti pieni allora andiamo a vedere non l'ho ancora aperta proprio per essere sincero al 100% come vedete è propolizzata ultimo melario messo settimana scorsa giusto settimana scorsa quello di cui abbiamo fatto il video che poi ci avete commentato questo è vuoto non è vuoto ma era un melario vergine comunque da costruire è stato costruito completamente però mire ancora niente no non niente vabbè dai vediamo da vicino non è niente è molto chiaro non è pieno siamo sinceri non è pieno anzi è più vuoto che pieno però comunque l'hanno costruito completamente e va bene questo è il quarto melario però il quarto melario si mette quando il terzo è pieno non fa una piega non fa una piega vediamo anche la centrale vediamo il terzo a me il terzo sembra pieno anche a me vediamo una sponda vai sponda sicuramente più vuota non è apercolato però è pieno eh si si vede brillare è pieno stanno iniziando a percolare anche questo mettili per terra che se no non ce la fai più no c'è un telaino sotto aspetta non hai guanti rimettilo giù come due telaini mettilo giù mettilo giù aspetta che metto in pausa vai scusatemi ho fatto un disastro tirando fuori un telaino avevamo costruito un ponte sono rimasti attaccati comunque abbiamo visto il primo il secondo era pieno il terzo era in ordine tecnologico il secondo tiriamo su direttamente una sponda percolata non al cento per cento ma questa è una sponda la sponda dovete vederne uno interno centrale in centrale se ce la faccio percolato manca la rosellina centrale ma è percolato e poi vai tira su sotto vediamo penso starò un po più attento vai piano così si è attaccato per vedere se sono staccato sono attaccato forse ce la faccio pesa veramente una fucilata per terra per terra anzi il fatto che fossero attaccati è sinonimo di garanzia vuol dire che non l'abbiamo spostato prima è l'ultima volta non l'ho attaccato e anche qua siamo pieni porca va pieno zeppo non diciamo balle questa qua la sponda mi vuoi far pungere no sono agitato guarda che bello completamente pieno vuoi vedere il secondo che mi pare ancora più bello direi di sì completamente pieno si dice abbastanza è tutto bianco direi che è pieno oh non l'abbiamo pitturato giuriamo cosa vuol dire pitturato eh non lo so magari un po' di vernice su sembra tutto bianco quindi niente signori se contiamo che qua il castagno ancora una settimana secondo noi a vederlo così dovrebbe farla pieno 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 questo qua in una settimana costruito hanno già iniziato a riempirlo secondo me lo togliamo che stando bassi ci sono entro 45-50 kg stando bassi sì direi di sì niente buona serata ciao 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 ciao